urban strangers ragazzi bentornati sul music italia ciao grazie ciao innanzitutto come va come come state vivendo questi momenti anche di preparazione quello che sarà il live del del 7 dicembre tutto bene tutto bene ci stiamo esercitando un po per riprendere anche dei delle canzoni che facevamo tempo fa infatti questa data del memo è diciamo una è un anniversario vero e proprio in realtà perché due anni fa abbiamo fatto la stessa data facendo sold out quindi speriamo bene che ricordo avete di quella data di quella di quella serata così bella al memo dove appunto fu sold out fu una serata anche molto bella dal punto di vista emozionale sì c'è stata molta energia positiva durante quella quel live infatti ci siamo sentiti molto immersi in quella situazione sarà stato forse uno dei nostri live preferiti in generale infatti siamo speriamo che risucceda in questo live sicuramente dal punto di vista dell'intensità emotiva credo di sì poi ci sarà la novità di un brano inedito che presenterete ho visto che avete annunciato sui social ci potete già dire qualcosa su quello che sarà il brano e magari su come è stato composto o sei italiano in inglese allora in teoria non potremmo dire niente però teoria possiamo dire che teoria il nome del singolo lo presentiamo appunto per la prima volta live al memo ancora non possiamo non abbiamo deciso ma ci sarà una data di uscita del singolo e il in particolare il singolo è nato da me perché ho iniziato a scriverlo io gennaro diciamo mi ha supportato in questo perché altrimenti sarebbe stato solo un pezzo mio e invece no gli urban strangers sono tornati qual è stato il tuo apporto nel singolo lo canto bene no no beh a parte questo diciamo che questa diciamo che questo concerto oltre a essere secondo me un anniversario del fatto di due anni fa che è andato benissimo è stato bellissimo è un po anche un concerto che fondamentale anche dopo tutto quello che abbiamo passato in questo periodo perché sono successe tantissime cose nel frattempo che poi vi racconteremo al live se venite e comunque questo pezzo anche un po diciamo un pezzo di rottura anche da quello che abbiamo fatto in passato non che ci stiamo allontanando da quello che abbiamo fatto ma è stato proprio un trampolino anche se ironicamente questo è un pezzo che abbiamo scritto cioè che adesso è scritto durante il periodo di us infatti io sono sempre stato super fan di questa canzone finché non sono riuscito a vincere questa gara e l'abbiamo portato insieme a diciamo alla produzione e ci abbiamo lavorato insieme a raffaele rufus ferrante comunque ha prodotto del brano boh è diciamo sia la canzone che secondo me anche se non a noi capita a volte di che succedono delle cose che sono collegato a quello che stiamo vivendo senza renderci conto di quello che sta succedendo cioè nel senso questo pezzo secondo me racconta un po delle cose che sono successe tra di noi tra tra di noi è il pubblico tra di noi è il nostro modo di vedere l'arte secondo me è proprio il fatto che durante la canzone c'è questo punto di incontro che stiamo cercando no arrivare a qualcosa che ci fa stare bene e ci stiamo arrivando stato veramente un periodo secondo me molto movimentato intenso però il fatto che sia un singolo in italiano fa capire anche le persone che con cui stiamo continuando su quella strada è passato un anno più o meno dall'uscita del vostro primo album in italiano e oggi a mente fredda cosa non rifareste di quell'album c'è qualcosa che cambiereste io penso che ci siano diverse cose che cambieremo magari non sono le stesse cose per entrambi ma noi siamo così di base molto autocritici quindi anche un giorno dopo che abbiamo scritto una canzone magari ci viene l'intenzione di cambiarla quindi in US ci sono sicuramente delle cose che avremmo voluto migliorare e che stiamo cercando di migliorare quindi quindi sì poi è bello comunque che abbiate deciso di continuare con l'italiano perché è vero l'italiano comunque è una lingua più difficile dal punto di vista compositivo perché comunque è una lingua tra l'altro bellissima lo sappiamo però anche difficile da far da far coincidere a far combaciare con con la musica il pubblico è reagito positivamente a questo vostro cambio allora il pubblico credo che la maggior parte ecco per non dire tutti diciamo del nostro pubblico dei nostri fan hanno reagito abbastanza positivamente anche se c'è stata una parte di loro che vuole sempre il nostro ritorno in inglese per quanto riguarda la difficoltà paradossalmente sì diciamo che ci è ci è sembrato un po più difficile scrivere in italiano all'inizio anche perché non eravamo abituati quindi è anche una questione di abitudine ma soprattutto una questione di vorrei dire tecnica ma di ricerca io penso che almeno nel mio caso più che difficile perché non l'ho trovato difficile nel senso dopo aver superato quella specie di imbarazzo iniziale nel fare una cosa nuova non so neanche se ho imparato con la paura di provare a fare una cosa nuova mi sono trovato a mio agio come quando a 16 anni a 15 anni ho scritto la mia prima canzone in inglese cioè non mi ha dato quella difficoltà tecnica in sé per sé più che altro è far suonare quello che il nostro tipo di musica con il linguaggio italiano che diciamo che penso che comunque alla fine negli ultimi anni abbiamo visto un'evoluzione generale in questo tipo di aree in visual cantato comunque partendo dal fatto che non esperimentiamo eccetera ma abbiamo quell'attitudine quindi diciamo la gavetta in inglese ci ha portato a facilitare la cosa in italiano adesso più che altro è creare un immaginario nella testa delle persone con le parole in italiano su cui stiamo lavorando secondo me cioè almeno io sto cercando di puntare diciamo il lavoro tecnico più che invece per la parte di scrittura come suonare le parole a me sembra che suonano bene ma dove sta andando la vostra musica? quali sono diciamo qual è la direzione che prenderà con quello che avete scritto in questi mesi? quello che è successo secondo me in questo periodo è stato proprio che siamo cresciuti abbiamo fatto molte esperienze in questi quattro anni e siamo cresciuti soprattutto singolarmente questo ha portato una cosa un po' diversa rispetto a prima che più che altro era sempre stata un'unica cosa che era già unita con due punti diversi e secondo me adesso sono due pensieri diversi che cercano di unirsi che è partito un po' da detachment questo discorso si è evoluto quel discorso cioè in un S fino ad arrivare a quello che stiamo facendo adesso non so in che proiezione cioè sonora stilistica di sound oppure siamo proiettati in questo momento il pezzo questo qua ha un secondo me una caratteristica fondamentale su quello che noi più o meno vorremmo mantenere all'interno dei pezzi secondo me che può essere definito indie che può essere definito intorno all'hip hop cioè sono sempre tante cose che mettiamo insieme ma l'attitudine che adesso è un po' più marcata rispetto a prima che erano delle sperimentazioni infatti la domanda di prima cosa cambieresti perché cambiare mi sarei preso del tempo per maturare quelle cose che stiamo facendo non cambiarle cioè l'espressione cioè proprio l'immagine che deve arrivare con le nostre parole dove aveva bisogno del tempo in più per maturare e per gestirla ma un po' meglio ma da questo punto di vista proprio dell'approccio c'è un punto di contatto tra la vostra musica e il rap? assolutamente sì c'è un punto di contatto tra più che la nostra musica tra noi e il rap perché la cultura hip hop sia individualmente che poi quando ci siamo incontrati sui gusti è una cosa che ci ha sempre caratterizzato e che abbiamo sempre eseguito quindi appunto parlando del rap che è l'arte proprio di parlare e scrivere in un certo modo le cose prendono in considerazione anche gli argomenti su cui si basa il rap anche se si basa più o meno su tutto ma comunque c'è un certo tipo di attitudine nel pensare, nello scrivere molto più cruda e terreno quindi sì di base si può dire che il rap è facilmente accostabile a noi ecco tra l'altro appunto ricordo in un'intervista che avete realizzato con il nostro direttore Massimiliano Longo grande Massimiliano eh sì avete parlato anche della vostra idea, della vostra volontà di realizzare un featuring potrebbe essere magari con qualche rapper un featuring? State già lavorando a qualcosa? penso che la risposta sia perché no, nel senso che non a tutti e due magari ma a chi più chi meno ci sono degli artisti che ci piacciono quindi potrebbe essere un featuring con un rapper il prossimo con un cantante LMB o solo o jazz quindi come capita oggi qual è l'aspetto della vostra musica del quale siete più orgogliosi? Cosa vi rende più orgogliosi del vostro percorso? cioè secondo me la cosa di cui possiamo andare fieri dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a suonare all'ultimo giorno in cui suoneremo è che ne facciamo quello che ci pare cioè sia nella scrivere che nel suonare, nell'impostazione è vero che bisogna mantenere degli schemi se uno vuole arrivare a un certo punto ma anche noi prendendo quegli schemi li abbiamo sempre destrutturati e fatti nostri quindi alla fine è proprio questa... a volte ci considerano strafottenti su certe cose no? abbiamo un po' questo atteggiamento che sembravamo disinteressati ma in realtà non è disinteresse è proprio che noi abbiamo le idee abbastanza chiare da sempre poi ovviamente cresciamo, cambiamo e cambia anche il nostro modo ma noi facciamo sempre quello che vogliamo infatti nelle nostre canzoni troviamo questo ogni volta che lo andiamo a rileggere cioè quello che eravamo in quel momento, quello che pensavamo quello che non cambierebbe mai niente di questo questo secondo me è il nostro mutuo di forza poi possiamo fare tutti i generi del mondo ragazzi, molto bene, io non posso che ringraziarvi e a questo punto vi lascio il microfono per ricordare l'appuntamento del 7 di dicembre al Memo ci vediamo sabato 7 dicembre al Memo Restaurant Club andremo con una sorpresa che sarà il nostro nuovo inedito che metteremo live intitolato Teorie ciao ciao ciao